ciao ragazzi oggi andiamo all'accademia dei ce l'hai Nicolò il patentino d'accadetto? anche tu Matti ce l'hai? si bene siamo pronti per l'accademia io sono Penny tu sei Penny tu Nicolò che sei? io Swift è un livello più difficile io che faccio invece? Rod che canta male io faccio Rod che canta male ragazzi e la mamma chi fa ragazzi? Brodi? i top wing sono su Nic Junior da lunedì a venerdì alle 19.30 con i nuovi episodi e sono una simpatica squadra di uccellini che aiuta chi è in difficoltà e qual è l'obiettivo delle loro missioni? guadagnare le ali che gli dà il loro istruttore Speedy riusciremo anche noi oggi a guadagnare le ali sui nostri patentini? si dai siamo quasi arrivati che bello che bello andiamo Ali siamo quasi arrivati? si si due minuti due minuti siamo quasi arrivati è vero ed eccoci ragazzi arrivati all'accademia top wing secondo te di che sono quei caschi? speriamo proprio di sì e qui ci sono i protagonisti della serie Rod io sarei quello Nicolò? eh si Swift sarebbe Nicolò Penny Matilde e la mamma Brodi l'hostess si ha subito chiamato per consegnarci l'attrezzatura da cadetto wow che casco ti è capitato Nicolò? questo qui vai quello di Swift la tua valigetta anche per Matilde ci sono casco e valigetta con gli accessori è arrivato il momento della vestizione ragazzi il nostro aspirante cadetto è nella tenda di Swift ecco il giaccone e tu Mati sei nella tenda rosa? si quella di Penny si dove è il tuo casco? il tuo casco? questo è il microfono per comunicare con il resto della squadra quando siete in missione vi potete parlare fra di voi come sta? è super imbottita per le missioni di soccorso ed ecco i nostri aspiranti cadetti ci siamo ragazzi l'avventura sta per cominciare vestiti di tutto punto e accessoriati siamo pronti per iniziare l'accademia top wing pronto Penny? pronto Penny lo senti? si ciao Swift pronta? si benvenuti all'accademia di volo top wing io sono Charlie e io sono Mickey la sua assistente e meccanico aeronautico siete pronti? guidati dall'istruttore di volo Charlie e dal meccanico Mickey gli aspiranti piloti vanno a caccia della loro prima missione siamo arrivati alla prova 1 della top wing academy un pilota dell'accademia top wing non ha paura delle altezze e vola subito a recuperare la sua squadra sei pronto a raccogliere tutti i personaggi dei top wing? si vai ci sarà da saltare da volare e da raccogliere è ora di guadagnarsi ne ha guarda che c'è Swift vai facciamo il tipo per Nicolò vai Nicolò vediamo chi è preso Penny 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 Rod e Rod via ci vediamo allo scivolo vai uh ragazzi un percorso incredibile in fondo c'è allo scivolo Nicola qua dentro ragazzi allo scivolo vai Nicolò batti 5 yes ancora ragazzi ecco il nostro cadetto vai lo sto seguendo è lui vai Nicolò e ora tutti i cadetti sono pronti per la scivolata di gruppo via beviamo un po' di carburante com'è buono? ed ha energie e per chi ha superato la prova e anche per chi ha fatto un tifo come Mati arriva il primo distintivo e la prima spilletta dell'Accademia Top Wing e sono arrivate le prime alette anche per Mati prova numero 1 dove andiamo adesso Nicolò? a mangiare su un aereo buono per un pasto a bordo si teniamolo sicuro nella tua valigetta Top Wing e allora seguiamo Charlie e Mickey perché potremmo andare su una pista pronti? via ecco ragazzi il nostro ristorante ci si va di corsa è un aereo mangiamo in un aereo? si è vero si si lo fanno con te con l'hype sbaglio oddio speriamo di no o speriamo di si speriamo di no ah ok eccoci all'imbarco solo chi ha la carta d'imbarco può salire ciao Charlie ciao Mickey ciao e saliamo sull'aereo ragazzi ed eccoci qua ragazzi nell'aereo mangiamo col casco Nicolò no togliamo il casco e chi sbuca qua? ciao Mati cosa c'è Mati? l'uva anche il formaggino ecco che è arrivata la pappa per Nicolò i cadetti sono già che mangiano buona Mati la polpetta è buona tu Nicolò cosa dici? buonissimo buonissimo Alex è anche per noi grandi? si e questo è il mio voilà è arrivata anche la ciambella dei Top Wing buona Mati anche Nicolò Mati se non riesci a finirla puoi darla tutta a papà? no ragazzi non ce la faccio ad assaggiarla dopo aver mangiato e recuperato le energie ci aspetta la seconda prova dell'accademia gli aspiranti piloti ci spiega Charlie devono prendere confidenza con il volo e allora costruire degli aerei di carta c'è un modello diverso per ogni componente della squadra di soccorso Top Wing e ovviamente Nicolò ha scelto quello arancione che è quello di Swift il suo personaggio preferito i cadetti sono pronti al lancio ragazzi Charlie spiega la tecnica di lancio i cadetti sono pronti vai Nicolò bravissimo wow e per Matilde c'è un aereo rosa Nicolò ci aiuta nel lancio vai e completata anche questa missione ci aspetta un nuovo adesivo per il nostro patentino brava Mati ecco qua vai spiccicato e anche per Nicolò seconda prova superata è quello di Penny Mati questo come il tuo casco e da poco manca questo e questo esatto ancora due uno due e tre anche per Mati arriva il terzo distintivo brava siamo arrivati alla terza prova questa prova si chiama prova di volo è ora di guadagnarci le ali andiamo a guadagnarci le ali via cadetti la terza prova ragazzi è proprio la prova di volo sei pronto a volare Nicolò? proviamo ci prepariamo per il volo ragazzi e Nicolò mette l'imbragatura arriva l'aereo arriva eccolo qui ragazzi è proprio lui si sale lì dentro si sale proprio qua dentro così ciao Nicolò Nicolò è partito Mati vai Nicolò ecco che arriva vai come è stato Nicchi? bello bello sì terza prova superata arriva il nuovo distintivo è arrivato lo sticker di Roth spiccichiamo un cadetto di qua e l'altro cadetto di qua ne manca solo uno solo Swift io non riesco a sentire ragazzi stiamo cercando di contattare Mickey col microfono ma non la sentiamo qualcuno che ha detto ciao hai sentito qualcuno che ha detto ciao? che sia Mickey allora? andiamo a vedere dove è andata stiamo cercando il nostro meccanico abbiamo cercato Mickey anche qua dentro ma non c'è ragazzi hai trovato Mickey Mati? non ancora andiamo a cercarla la ricerca continua impaperata che vuol dire impaperata? non capisco tu sta sistemando un'ada ma a destra o a sinistra ho sentito strada ma anche a sinistra ti dice per strada giusto wow c'è una mongolfiera qui che bello ma dov'è finita? oh non riesce più a scendere bucchiamo i palloncini bucchiamo i palloncini? per farla scendere palloncini e corda e poi la facciamo scendere e continua a salire giusto ecco che scoppia i palloncini sì anche con la corda sì presa i cadetti sono all'opera ecco che Mickey scende bravi siete stati bravissimi siamo riusciti a salvare Mickey che non riusciva più a scendere quindi per voi il distintivo della missione soccorso ed ecco il distintivo della missione soccorso missione soccorso adesso però dobbiamo provare sul serio a volare faremo la simulazione di volo ragazzi andiamo alla prova numero 4 siamo arrivati alla prova numero 4 è il simulatore di volo sono tutti sull'elicottero li hai visti i nostri cadetti sì belli qui si guida proprio un elicottero vero vai a guidare quello lì? oh là là vai Nicolò tocca a te andiamo a guidare si sale sul simulatore eccoci qua è arrivata anche Matilde ragazzi ciao ragazzi si vola Mati sta sbirciando dove vanno e Nicolò è concentratissimo alla guida sono sopra un bosco sulle montagne ragazzi deve essere bellissimo guidare questo simulatore com'è stato guidare l'elicottero? bellissimo sto volando 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 e ora arriva l'ultimo sticker la prova di volo è stata superata da tutti i cadetti sticker e spilla vai anche per Matilde ci siamo Nicolò è quello di Swift vai Mati è l'ultimo siamo pronti per la cerimonia di premiazione ragazzi si va alla consegna dei diplomi wow avete superato brillantemente tutte e quattro le prove io vi chiamerò uno per uno vi conferirò il vostro diploma di pilota esperto Nicolò congratulazioni bravissimo e Matilde eccola congratulazioni brava Mati bravi si ci siamo guadagnati il diploma ma anche la merenda ragazzi che è spettacolare wow che cannucce e guarda la torta Nicolò l'hai vista? è spettacolare c'è scritto Top Wing ha un sacco di piani che biscotto mangeresti? quello di Swift? già preso ragazzi che bello Mati questo di Rod ma te lo mangi tutto Stella? papà ti aiuta sai? ci sono ieri tramezzino i cieli da mangiare carburante gasolina oddio mi mangiava una nuvolozza è buona la nuvoletta di Top Wing Mati si è molto buona qua l'hanno già finita ragazzi vi siete divertiti in questa super giornata? si avevamo aerei dappertutto anche di tutti voi c'è un aereo l'avete visto? giratevi c'è un aereo anche lì ragazzi a noi questa giornata i Top Wing sono piaciuti un sacco e se questo video ragazzi è anche a voi piaciuto mettete un pollicione iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video ciao 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 ciao